musica 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 ho messo 2k punti sul si non deludermi non deludermi ragazzi io ieri non ho giocato voi siete convinti? non lo so ero tipo un random ho visto il blu ho votato perché stai li erai tu? devo farlo briciare vai in cima ma stanno sotto questo potrebbe essere un problema non sto a dire perchè stanno sotto? ma che cazzo ne so ma ho visto c***o runoutare Jäger ma c***o eh si ma evidentemente sta sotto vabbè sento qualcuno eeeh 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 stava qui nei dintorni attento io dovrei un attimo briciare che facciamo? uno è da me non mi puoi dire a call da me che partito da te? nuovo caricatore nuovo caricatore da te arriva arriva scale sicuro? sicuro? si stava li eeeh è sempre sopra rimasto sempre sopra stava morto ma c'era un altro no sotto sotto eh capito c'era un altro no sopra non c'è nessuno no nella botola c'era un altro sopra botola eh si sopra botola se uno vabbè è sceso è sceso botola peccato perchè era molto fattibile questo poteva comunque ammazzarlo ragazzi eh glielo ho fatto io si a capito Giovanni ha detto che ce l'ha fatta per la foto ha fatta la foto? ah raga però allora ma sono giocata bene solo che peccato dai minchia e farsi ammazzare sopra tagliè chiaro uno penso di averlo appendolato ma entrare in bimba non era illegale oh no no l'ho ucciso uno è noccato uno è noccato fuori finestro vai a ammazzare buono 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 ci sono sai ci sono sai banana banana nice buono raga dai eh ti metti il rampellato lì mi devi guardare queste vetrate dentro ok? eh eh io sono sicuro che morirò io eh è perchè sei un bidone se mori che tu vuoi? no no fidati beh capo posso lanciare pure così ma perchè devo rampellare comunque io mi stia facendo ammazzare a me ma che vuoi da me? nooo c'era uno ma che stai facendo quello? a me devi tu ma quando è passato? eh stavo passato quando mi ho preso a me vabbè devo fare io la cosa comprimente ma c'è nessuno che fai i buchi? ma abbiamo frost bravi mamma mia vedi bravo che sono intelligente io? no sei fortissimo però nooo beh dimmi perchè lui si deve spostare perchè io sparo ma poi all'ultimo hai capito qua comunque eh bingo rosso ti sta salvando ti sta salvando si cazzo no vabbè non ho neanche tempo non te la fa niente buona dai guarda i caprali che metto io eh no ti prego dai 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 va benissimo così guardate quante kill faccio dai 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 ti prego bravi ragazzi uno in server oh ho 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 f*** f*** morto un altro garage last garage last ultime garage veramente f*** buono ragazzi avete capito come si usa l'SG l'SMG avete capito? eh? non ve lo spiego più eh nazi se fanno quattro ho distrutto un drone? col kite? che f*** è fuori là è fuori là troppo fortiii ragazzi così si regna banca è abbastanza quanto fate vedere raga forse c'è il double rank up se non sbaglio oh mi sa che c'è raga bronzo 1 argento 5 quante ne sappiamo ragazzi allora siamo in attacco su costa ora che vi ricordo che sia sul primario che sul secondario vi stanno uscendo due video al giorno eh quindi sono quattro video eh sul secondario se volete vedermi non sul rainbow ma in altri giochi c'è il secondario vedrai se vuoi pusha da da bianca c'è la mia cam se vuoi eh no da bianca è col cazzo che è pusha zi eh no c'è la mia cam volendo eh dimmi dai dimmi dai dimmi se c'è qualcuno qua puoi andare non c'è nessuno eh ora da loro in poi non su un cazzo eh va bene zi tranquillo ti aiuto faccio un po' di casino ecco come l'ho detto non buscerò mai più da bridge mira morta l'ultima è dentro mi sa fammi te lo no perchè pulse mancano 15 secondi posso te lo no? bravo nice visto chat molto nel chill chat f***** f***** ok è andato via ha messo anche i capgan sopra ok lo sto spottando eh c'era un ucciso io sono dentro al site troppo forte troppo forte grazie scudo assalto a piazza uno è sopra si ho visto un uomo avviato proteggete il disinnescatore morto sopra non è rimasto f***** 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 ha i capgan bravo buono come? sì allora eh ho un attimo panicato ragazzi perchè Valkyrie mi era scomparsa sparavo alle bevande e si era messo dietro le bevande c'ho acquito un cazzo ad un certo punto però vabbè vado un cazzo è troppo bianco ah ti devo dire insomma ti devo dire basta 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 ragazzi basta perchè perchè troppa pressione dai che sento oh my f***** gluglo ti aiuto? si ti prego è fuori balconcino fuori balconcino tutaci qua no non serve un cazzo si è lì guarda ed è il balconcino trampellato dai esci dai vada vedi yes troppo forte questo gioco oh corri toyo vip 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 guys vip ma spostati proprio da qua ti controllo io sempre eh ci sono anche le mie gambe ste f***** ok c'è un drone di brava puri sto dronando eccolo arriva qua il drone mi rompe la cambra ok rompe lontano eh no no chi è? ma quello ha ucciso il suo compagno dov'è? ma che cazzo sto stai non è nessun abbaricato lì ho avuto e cazzo eh dove si aspetta sound ne faccio una e vengo La mira era perfetta ragazzi Penso molto dritta Sì Possiamo dire che comunque Un'ottima mira per noi Bella solida C'è il diffuser Ho il diffuser Morto un altro Che cazzo Anche a casa della mia ragazza Cazzo 8-2 Cazzo Come faccio ad essere così forte? Il bagnoschiuma che uso